I'm just in her face, I can't forget the time, a place where we just met, she's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Carlo! Un buon video messaggio a Carlo Bertone. Carlo, ti voglio bene perché? Perché è uno dei pochi che è rimasto un genio più grande. Un attore, un regista, un autore completo. Per le risalte. Perché sei Carlo? Perché rappresenti i romani e sei divertentissimo. Carlo, ti voglio bene, sono un grande e sono un altro fan. E si impara un po'. Perché è un grande, un grande, un grande, un grande. Perché è bellissimo e è bravo. Fa ben divertente. Perché mi fai ridere e ridere fa bene. I sentimenti non hanno bisogno di essere spiegati, ti voglio bene Carlo! Devo ringraziare io a voi che mi avete puntato su di me, mi avete dato fiducia. Io vi ringrazio per essere stato il motore che mi ha portato avanti. Io so le ruote e voi il motore che mi ha spiegato. Quindi grazie di cuore a voi.